Nel 600 in Europa avvia una grande instabilità politica, la quale culmina con la guerra dei 30 anni. In questo periodo la controriforma influenzerà in maniera significativa ogni espressione artistica, dalla pittura all'architettura, nonché la scultura. Questo perché la Chiesa di Roma ha la necessità di imporre nuovamente il credo cattolico, attraverso un processo di indottrinamento dei fedeli, quotidiano e totalizzante. Nella produzione figurativa si scontrano due grandi riferimenti. Da un lato lo studio è la rappresentazione del mondo reale, forte del nuovo metodo di analisi sperimentale introdotto da Galileo e da Newton. Dall'altro la necessità della Chiesa di riaffermare con forza principi e verità proprie. Nel barocco si accentua il distacco dei principi rinascimentali basati sul linguaggio e sulla misura classica, questo era un processo già avviato durante il manierismo. In architettura si realizzano spazi privi di punti di riferimento fissi, mentre nelle arti figurative viene accentuata la gestualità e vi è una prevalenza di effetti dinamici. La prospettiva viene utilizzata per rappresentare una realtà immaginaria, soprattutto per ricreare degli spazi infiniti, perdendo la funzione di controllo razionale dello spazio. Nel barocco, quindi, l'artista è chiamato con la sua creatività e la sua immaginazione a stupire, a creare meraviglia ed emozione, al fine di riportare il fedele tra le braccia della Chiesa Cattolica. Il termine barocco deriva dalla parola spagnola barruejo, indicante una perla irregolare e pertanto bizzarra. L'arte barocca rifiuta quindi l'idea di finito e di misurabile, per questo in architettura si prediligono le forme ellittiche e gli andamenti a spirale, che dilatano l'ambiente reale, trascinando lo sguardo verso l'alto, come per esempio l'insantiva alla sapienza del Borromini. Le volte delle chiese e dei palazzi vengono decorate con grandi affreschi che imitano spazi infiniti, anche grazie a complessi impianti prospettici e andamenti turbinosi. I prospetti esterni sono sempre caratterizzati da linee curve, con vesse e concave, donando un grande senso di dinamicità alla composizione, come per esempio nella chiesa di San Carlo alle quattro fontane del Borromini, oppure nel portico di piazza San Pietro realizzato dal Bernini. Nell'arte barocca trova grande utilizzo la luce, che viene vista come strumento imprescindibile per creare illusioni visive. Le opere pittoriche sono caratterizzate quindi da forti contrasti chiaroscurali, per effetto della luce radente. Le forme principali emergono dallo sfondo scuro, determinando una maggiore espressività e drammaticità dei contenuti. Il maestro indiscusso di tale tecnica è certamente Michelangelo Merisi, detto anche il Caravaggio. Egli fu certamente il pittore più importante del periodo barocco, anche se la sua figura fu riscoperta soltanto agli inizi del Novecento, per via della sua vita travagliata, caratterizzata da frequenti incarcerazioni e da continue fughe per via di una condanna a morte, a seguito di un omicidio. Spesso controversa, per via dei soggetti rappresentati, la pittura di Caravaggio è fortemente rivoluzionaria e segnerà un importante snodo verso la modernità artistica. Durante il barocco troverà ampia diffusione la natura morta, con un primo esempio realizzato proprio dal Caravaggio, con il quadro Canestra di frutta. Le nature a morte, possiedono grandi valenze simboliche. I fiori sono un simbolo di purezza. La frutta, quando viene rappresentata rovinata o in via di marciascienza, incarna invece la caducità della vita. Insieme alle nature a morte, trova di fusione la pittura di genere, ossia una forma d'arte che tende a rifigurare scene di vita quotidiana di persone semplici, e non di nobili aristocratici come è fatto fino ad allora. Anche in scultura trova notevole interesse lo studio della posizione delle fonti di luce, naturali ed artificiali, al fine di esaltare gli effetti dinamici e drammatici. Altre si avrà un ruolo importante il senso del movimento, con delle figure scolpite che assumono pose ai limiti della stabilità, come per esempio nella celebre opera Apollo e Daphne del Bernini. La leggenda narra che Apollo, alla vista di Daphne, si innamorò della stessa. Il dio inseguì Daphne mentre ella fuggì impaurita. Per scongiurare la sottomissione ad Apollo, Daphne chiese al padre, il dio Peneo, di venirle in soccorso. Quest'ultimo la trasformano in un arbusto di alloro, sfuggendo così dalle mani di Apollo. Il gruppo scultoreo è caratterizzato da un grande senso di dinamismo, accentuato da forti effetti chiaroscurali.